Un disegno che rappresenti l'importanza del sangue con una frase di sensibilizzazione a donarlo, promosso dall'unità di raccolta Avis di Agropoli e questo il progetto rivolto agli studenti di ogni ordine e grado delle scuole del territorio agropolese che si è svolto durante l'arco dell'anno e che nella giornata di mercoledì 5 giugno presso l'aula consigliare agropolese ha visto la premiazione degli elaborati vincitori, dieci ragazzi premiati con borse di studio e attestati di partecipazione. È stata una bella mattinata, i ragazzi hanno espresso il loro pensiero sull'Avis sia come disegno sia come frase, una frase che invita un po' tutti noi ad essere un poco più buoni, a compiere questo gesto d'amore che ce n'è tanto bisogno, ma soprattutto hanno espresso quel sentimento che si sta un po' spegnendo, quello della solidarietà. Io sono rimasto molto contento, abbiamo premiato dieci ragazzi con una borse di studio di 100 euro cada uno, a tutti gli altri abbiamo dato un gadget con un pensiero, con un attestato di partecipazione. Mi auguro che l'anno prossimo sia più partecipata e che dire, sono felicissimo e mi auguro che l'Avis da tutto quello che noi facciamo, noi volontari che stiamo sul territorio tutti i giorni ne tragga beneficio e che il numero di donatori aumenti perché oltre al ricambio che è necessario c'è proprio bisogno di sangue tutti i giorni.